161 piante di marijuana sono state scoperte dai carabinieri in un'abitazione a Palermo, nella centralissima via Mariano Stabile. La casa appartiene a Coradino Gandolfo, di 32 anni, arrestato ieri dai militari per ricettazione e detenzione di armi e droga. L'uomo è quindi stato denunciato anche per ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Coradino appartiene a una famiglia importante di Palermo ed è erede di numerosi immobili in tutta la città. A rivelare ai carabinieri l'esistenza della piantagione sono stati depliant trovati all'interno della cassaforte durante le fasi dell'arresto. Vere e proprie guide che svelavano tutti i segreti sulla coltivazione della cannabis. Le piante erano disposte su più file ordinate e ben illuminate da un impianto alogeno di ultimissima generazione, collegato direttamente alla rete pubblica. Gli arbusti erano stati selezionati e seguiti in maniera scientifica con l'ausilio di concimi chimici e impianti da reazione per poter produrre erba con principio attivo particolarmente elevato. L'ipotesi investigativa è che quelle piantine fossero coltivate per essere smerciate direttamente nelle piazze di spaccio della cosiddetta Palermo Bene.